Musica Bella ragazzi di quelle tre volte Quest'oggi sono qui in compagnia di Pezzo Che se ne è scappato E di Re Scorpion Bella raga E siamo qui ragazzi quest'oggi Uniti per fare assieme a voi I mix arcade di minigames Quindi ragazzi fateci sapere qua sotto con un commento e un like Se l'idea vi piace E niente raga noi adesso andiamo a trovare la partita Quindi ci vediamo tra pochissimo in partita Eh ma aspetta io voglio sapere anche qual è il loro preferito Quindi qua sotto devono scrivere qual è il mix arcade preferito Giusto va bene va bene Ragazzi facciamo che il video diventa un attimino Un po' più interattivo Quindi fateci sapere qua sotto nei commenti Qual è il vostro minigame preferito Detto questo ci vediamo tra pochissimo in partita Ma no Ma non ci sta nessuno In questa lobby Eh oh ma adesso entreranno credo Ok No pezzo non entrano Rimaniamo soli a vita Può essere Beh mi piace stare con te Anche a me Però c'hanno frienzonato Ma che cazzo Il server ci ha frienzonato Sì davvero siamo No vabbè aspetta Se è così trovo un'altra lobby Vai devi trovarne un'altra No no aspetta Stanno arrivando i nostri amici Sì Ok ragazzi eccoci qui In partita Praticamente qui Aspetta mi sa che non è ancora iniziato Perfetto No 10 No non è ancora iniziato Ok qui sostanzialmente dobbiamo colpire con l'arco Il colore del nostro minecart Ah si muove Eh si Più ne colpiamo di seguito Più il nostro minecart va veloce E il primo che arriva vince È molto semplice Io c'ho il blu ragazzi Molto semplice e coinciso Io sono il viola Raga Tu pezzo Ma che problema c'è Oh io sono il rosso Ma qui c'è qualcosa che non va Stiamo andando Stiamo andando Perché la freccia è un po' Sbarro spirulina Sì è un po' Sì la pezza La pezza Come? La freccia è un po' strana Sì sì Oddio ma c'è un casino di sottofondo assurdo Devo ricordarmi di abbassare Ok Oddio il mio minecart è impazzito È impazzito il mio minecart raga Guarda pezzo Guarda pezzo Ho fatto secondo raga Ok qui raga dovete stare attenti Perché alcuni animali vi danno dei punti Mentre altri praticamente ve ne tolgono Ok Questa è l'animal slaughter Perfetto Ci siamo Ci siamo Ok le mucche danno tipo 5 punti Quindi Sono quelle che più che altro scappano Mi fa più punti dice Eh poche parole sì Ma è difficile È tosto No Meno punti State attenti raga A prendere quelli che ti danno meno punti Perché Oddio ma pezzo è primo Raga C'è Non so se l'avete capito ma pezzo Ma pezzo è troppo forte È troppo forte No ma chi è che l'avete capito Poi che sta Il Dregolo è buario a secondo È vero Sì sì poi chiaramente in base a quanti A quanti punti fate Nei vari minigame Poi alla fine vi piazza un po' Sto vincono i primi tre Chiaramente Quindi raga sarebbe figo se tipo Vinciamo noi tre Cosa che Oh Ho parlato Ho parlato eh Qui Ok Questo è claim and launch Possible No Questo qui Qualcosa devi prendere il più terra possibile Sì abbiamo una zappa e abbiamo anche un colore Dobbiamo praticamente zappare la terra con il nostro colore Però possiamo soltanto zappare accanto al nostro colore sì Io tipo il nero E basta che piazzi per terra Piazzi per terra con un Tipo c'hai io il nero no Ma non stava andando E devo piazzare accanto al nero Ah ok 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 E qui in poche parole dovete cercare di zonare le altre persone In modo che così non possono più tipo claimare la zona Eh ma un po' complessa la situazione qua Un po' complessa però funziona Tipo vedi pezzo c'è praticamente riuscito ma appena chiuso Ma come cazzo fa dai Anzi no ancora no Ancora no Ancora no Guardate che schifo Ragazzi pezzo si è allenato eh Sono sicuro che pezzo si è allenato prima Se state notando ma No mi sta chiudendo No 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 Cioè ok si ma chiuso ma chiuso Pezzo ma chiuso No posso mettere l'ultimo Ma non si può più mettere Eh no 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 Una volta che ti chiudi Sì Noi ci siamo chiusi assieme Uh cazzo Terzo terzo Vabbè Io sono a 5 stars Trampolino Cos'è che è? Ok Oh questo lo odio Questo è brutto No a me non piace Dobbiamo sostanzialmente saltare E tipo mi sembra Mi sembra che le ragnatele ti danno tipo il boost Per salire più in alto Cioè chi sale più in alto vince No devi prendere i punti Oddio Ah hai capito Vedi che ci stanno i blocchi Devi colpire con la tua testa Guarda qua ti puoi c'è il booster Ah qua Qua si vince sicuro Prendo questo Nice Chi è primo? Eh tu Davvero? Sì Pazzisco Ancora per poco Forse Non credo Ancora per molte Oh ci sto Ci sto Oh io sto dietro pezzo Dai Vediamo È un po' inquietante da dire così Però è così Ma quanto è forte Vabbè Quanto è forte Oh questo è figo raga Questo è veramente bello Ma no questo devi continuare a correre Questo è vulcano Sì praticamente il terreno ti cade sotto i piedi Madonna Cominciare a correre Cominciare a correre Io consiglio di farlo in F5 questo qui Però vabbè dai lo faccio in prima persona Perché io puo Dai Corri 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 Attenti ovviamente ai blocchi rossi Che quelli li cadono Sì I quelli rossi sono quelli che praticamente Si bruciano molto Ma molto più velocemente Rispetto agli altri E no questo è tosto Questo è tosto Sì 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 È tosto però Mi sembra che siamo ancora tutti vivi Oddio pezzo di qua che mi stava quasi per far cadere Aiuto No Io sono morto Scorpio un primo raga Incredibile Questo qui praticamente abbiamo una lastra sopra la testa Nel senso dobbiamo ripararci dalla neve che cade Guarda tipo adesso Ok dobbiamo andare tutti qua sotto Guardate Sotto queste lastre qui Grazie Eh ma questo scivoli Porr che cosa brutta Infatti devi Infatti devi shiftare In teoria È meglio se shifti Che abbiamo fatto Attenti raga Ok Madonna Madonna Ma ti ha preso Ma se ti prendi ti elimina Certo sì 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 Poi arriverà a un certo punto della partita Che se continuiamo a non morire Praticamente si potrà picchiare l'altra gente Ed è fighissimo Per buttarla fuori Esatto No forse non lo sapevo È veramente figo raga Oddio Di qua Quanta gente Ma no quanti sono Quanti sono sopravvissuti Eh siamo tipo in Cinque Siamo in cinque Siamo in cinque No 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 È presto Io vado di là Vai io va di là Ok ci sto ci sto Ci sto Eh Ma non muore nessuno Oddio Di qua No spero che muovi qualcuno Dai dai morite morite Io ero giù di lì eh Stavo quasi per crepare Sì 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 Da un quadri Cosa no Per chi Vabbè Oh sì 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 Sono vivo Oh siamo rimasti in tre Oh ti aiuto Ma che è successo a pezzo Ah no No sono morto Pensiamo che si era già attivata la roba lì Che potevi picciare gli altri Non ci credo Oh Mamma mia pezzo raga Troppo forte Qui dobbiamo picchiare i pipistrelli Ok Sì ma questi sono tortissimi Dobbiamo preparare Ci sta ci sta Non ce la faccio a pigliarli Tra l'altro I pipistrelli con suscitto punch me sono bellissimi Ma allora Poveri pipistrelli Le devo uccidere Ragazzi Hashtag pezzo quanto è potente Troppo Vai Super pezzo Super pezzo Anche Anche il mantello raga Perché io ho l'optify Non lo vedo con il mantello Quindi sì È super pezzo È certo Ah pure io ho l'optify Cioè super pezzo c'è il mantello Che poi qualcuno me l'ha regalato Perché io non l'ho comprato l'optify Davvero? Quindi grazie a chiunque me l'abbia regalato Esatto Un sacco di anni fa Adesso chi è pezzo? Prima del nostro periodo di Oh raga tutti e tre Grandi Grandissimi Grandissimi E adesso? Oh questo qui è veramente fidissimo Questo è bellissimo Questo è pig Dobbiamo pescare il mio preferito Dobbiamo pescare i pig Quindi dobbiamo pescare tanti piccoli pezzo Che si trovano lì nell'acqua Eccoli lì No ma che li devi colpire Devi Praticamente devi pescare Ti metosto questo E non è facile Non è facile Non è facile Ma te sei ma Oh l'ho preso Che figlio Oddio ma io non ne sto prendendo neanche uno Oh Non sei il unico Questo non vuole entrare Dai Ok l'ho pigliato Io ne ho preso uno per adesso Eccola E' stato io perché ho preso il Prezzo Oh Ottimo ne ho preso un altro Guarda che non ce riesco Eccola Penso che se guardate no Funziona meglio E' il tutto Quello è il super bacon Vai via lui Si a quanto pare si Super bacon Vai tu vai tu vai tu Vai tu vai tu Per altro di nuovo No si Ma i super bacon sono tipo piccoli Guarda lì Si si valgono di più evidentemente No ti fanno alzare la cosa No invece secondo me valgono di più eh Perché te sei tipo già a 7 Quindi si valgono sicuramente di più Non lo riesco a prendere Cazzo Ma come fa a pezzo a essere così forte in questi minigame? Ti ho detto prima si è allenato di nascosto Si 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 prima di iniziare Voi non lo sapete ma io stavo giocando Ok io sono a 4 ma basta Ah buona ragazzi Oh però sempre noi eh Cioè nel sembra mia Vorrei dire però Ma non vorrei dire ma siamo rimasti in 4 in questo server Ecco perché Perfetto Mi raccomando Hashtag pezzo super meno pezzo qualcosa del genere Anzi lancialo te l'hashtag va Super pezzo Hashtag super pezzo E poi vogliamo sapere qua sotto il vostro minigame preferito Io direi la pesca dei pig che secondo me è fantastica Io sono un po' indeciso Ci penso raga E dopo lo scrivo anche io come voi nei commenti Quindi raga vi invito come al solito a passare nei canali in descrizione A lasciare un like, un commento, ad iscrivervi E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Bella raga